No, prego, stiamo sul pezzo, non interrompiamo e rispondiamo nello specifico. Il sindaco di Cantù che ha messo per la prima volta, nella storia degli ultimi 25 anni, della storia di Cantù ha messo l'addizionale IRP comunale che prima non c'era. Vuoi fare lo sciopero fiscale, vuoi fare la desistenza fiscale, vuoi fare la liberazione fiscale? Inizia a liberare i cittadini e i canturini da una tassa che tu hai messo. Hai messo tutti i parcheggi, tutti i parcheggi, tutti i parcheggi di Cantù, sono diventati tutti i parcheggi a pagamenti.